Ciao e benvenuti in questo video, io sono Mattia Babetto, laureato in scienze motorie specializzato in motori a posto funzionale. Oggi voglio parlarti di mal di schiena, voglio in particolare vedere come fare a risolverlo in modo naturale. Infatti tu sei bene che oggi il mal di schiena è davvero diffusissimo, è in continua crescita. I motivi per cui il mal di schiena si manifesta sono tantissimi, possono essere dei più comuni come lo stress, infatti oggi viviamo una vita stressatissima, non ci fermiamo mai, dalla mattina alla sera è un continuo correre, oppure è un motivo posturale, attitudini scorrette di movimento o comunque nel mantenere posture viziate, dalle più rare che possono essere ad esempio un tumore osseo o un'artrosi molto grave, quindi è difficile che sia quest'ultima causa che ti ho detto. E quindi quello che dà più partito del mal di schiena è che se c'erai ad esempio alla mattina appena ti alzi, sei rigido, fai fatica a metterti in moto, ti senti letteralmente impacciato anche nel fare le cose più semplici, neanche nel metterti i pantaloni, oppure se c'erai durante la giornata, ad esempio se stai molto seduto e quando ti alzi, anche lì fai fatica a metterti in moto, pensa per esempio a solo alzarti per spezzare un attimo quello che stai facendo, andarti a prendere un caffè o bere un bicchiere d'acqua, anche lì è pesante, è una situazione davvero pesante. E come fai a risolverlo? Se il tuo mal di schiena è di origine posturale o da stress, per vederlo ti basta comunque fare una visita da uno specialista, per risolverlo ti basta andare a lavorare sul core. E il core che cos'è? Il core è la parte centrale del tuo corpo e quando i muscoli che appartengono a questa zona del corpo sono in corretto equilibrio tra loro, te ne c'è alcuni come addominali, trasverso dell'addome, muscoli glutei, muscoli dorsali, ti dicevo, quando questi muscoli sono in equilibrio tra loro, allora ti senti in generale più forte, più sciolto, riesci a fare meglio le cose di ogni giorno, compreso l'altarti la mattina dal letto. E proprio per questo in questi anni ho creato video gratuiti qua sul mio canale YouTube, puoi vederli. Però ho voluto fare adesso un qualcosa di veramente più completo. Ho voluto crearti una programmazione di 8 settimane dove ti guido step by step facendo esercizi specifici appunto per il mal di schiena, per andare a lavorare sia sulla mobilità del bacino, sia sul corpo per rinforzarlo e per finalmente liberarti dal mal di schiena. Te lo ripeto, questa programmazione è adatta a te se hai un mal di schiena che deriva da posture viziate, e quindi di origine posturale o dovuto allo stress, ma non se al contrario il tuo mal di schiena è dovuto a un qualcosa di osso, una problematica molto grave, per questo innanzitutto ti consiglio di fare una visita specialistica per capire qual è la caso del tuo mal di schiena. Veramente non troverai niente di questo tipo sul web, l'ho voluta mettere veramente a un prezzo accessibile a tutti, quindi che dire, se ti fa piacere acquista la guida, questa videoguida e fammi sapere poi come va. Ciao da Mattia!